La preghiera geografica cioè la preghiera che praticamente veniva guidata dalle segnalazioni, dalle richieste di preghiera che pervenivano costantemente alla Casa Pontificia. Voi avete sentito sicuramente questa bellissima usanza che poi del resto è stata anche custodita come parte di eredità di Giovanni Paolo II da Papa Benedetto, non so adesso com'è Papa Francesco, ma comunque le suore ogni giorno preparavano un elenco di intenzioni di preghiere provenienti da tutte le parti del mondo e Giovanni Paolo veramente pregava per queste persone e molto spesso rendendosi conto della gravità della situazione poi chiedeva le informazioni su questi fatti. Allora la sua preghiera veramente percorreva il mondo intero, tutti i continenti, tutti i paesi. Era davvero una preghiera di un pastore, di un pastore della Chiesa Universale. Più che un pastore, ecco un padre che percepiva questa sua missione nei confronti del mondo come una missione propriamente spirituale. Lui stesso era solito dire che il compito più grande che il Papa ha nei confronti della Chiesa e del mondo è proprio quello della preghiera e doveva essere il testimone dell'assoluto, il testimone della presenza di Dio nel mondo. Questa era la preghiera eccogeografica che copriva il mondo intero, ma la sua preghiera era veramente una preghiera costante. Lui davvero viveva la presenza di Dio. Uno dei testimoni ha definito la preghiera del Papa, soprattutto la preghiera del Rosario, come passatempo perché in effetti o parlava con la persona o parlava con Dio. Era sempre occupato, aveva la mente occupata. Poi aveva una capacità straordinaria della condivisione della sua attenzione. Pensate che in momenti della sua formazione, perché come Papa si formava costantemente, leggeva, lui per esempio leggeva contemporaneamente due libri. Qualcuno gioca due partite di scachi e lui leggeva contemporaneamente due libri. Uno che leggeva da solo e l'altro che stava qualcuno dietro e gli leggeva ad alta voce un libro. E in tutto questo trovava il tempo per la preghiera. A me, per quanto riguarda la preghiera, va bene, uno dice il Papa deve pregare, il mestiere è suo. Però pensate, la cosa che a me ha colpito particolarmente, che conferma l'autenticità di questa dimensione di vita del Papa, cioè la sua preghiera, sono soprattutto gli ultimi anni della sua vita. E quando era veramente già provato dalla malattia, stanco, e sono i racconti soprattutto dei viaggi apostolici, dove magari alla fine della giornata, quando il Papa tornava nell'Annunziatura, praticamente lo portavano quasi a peso morto per mangiare un boccone di qualcosa e poi lo trascinavano nella sua camera da letto, lui pretendeva, chiedeva, di organizzare la sua stanza in modo tale, quando non poteva più camminare da solo, di avere un angolo con il Santissimo Sacramento nella camera da letto. E molto spesso, dopo una giornata in cui veramente ha dato tutto quello che poteva dare, trascinato nella camera da letto, lasciato lì in camera, il giorno dopo il suo letto era intatto, non si metteva neanche a dormire, a riposare, perché il suo riposo era quello davanti al Signore, in preghiera. Grazie a tutti.